La capolista Rimini supera l'ostacolo Nova Feltea mettendo il risultato a sicuro già dopo i soli 20 minuti di gioco. Per la compaggia di Comandini troppo forte questo Rimini, anche se un tempo è stato concesso agli avversari per via dell'emozione patita dai propri uomini. Sentiamo il tecnico di Nova Feltea. Complessivamente ne esco soddisfatto, anche se il risultato sicuramente non ci ha premiato. Devo dire che i ragazzi hanno subito il primo tempo, il fascino di questo bellissimo impianto, il Romeo Neri, che per molti di loro è qualcosa che è forse un po' troppo grande ancora da immaginare. Tuttavia nella ripresa giallobru della Val Marecchia hanno risposto cercando di riaprire i giochi con un gran gol di evangelisti e poi con una traversa di Gregori. Il Rimini si è dimostrato padrone del campo e il leader in discorso di questo torneo mettendo in vetrina diversi ragazzi interessanti. I biancorossi Giannavio con questo tiro cross di Cupioli mandano in affanno la retroguardia ospite che tuttavia recupera il pallone grazie al colpo di testa di Fabi che lo consegna tra i guanti di Germani. Più pericoloso Becchimanzi con una conclusione che si spegne di poco a lato. E il preludio a gol che arriva puntualmente al minuto 10 da una punizione di Gacovicai nasce la respinta in corne di Germani. Dalla bandierina è preciso e potente il colpo di testa di Mattia Pellegrino che non lascia scampo al portiere ospite. Le insultanze biancorosse e vantaggio sono meritati. I padroni di casa che ci prendono gusto con questo tiro di Franceschini che chiama la respinta di piede l'attento Germani. Lombardi che non vuole essere da meno del compagno mira la porta, pallone che questa volta si spegne a lato. Becchimanzi risulta più preciso del collega quando inizia l'azione della doppio servendo Marconi, il quale assiste il compagno consegnandogli un pallone che è semplicemente da spedire in rete comodamente da due passi. 2-0 Rimini e partita già ai titoli di coda. Poco ci manca quando Marconi da fuori aria impegna severamente Germani che ribatte sulla testa di Franceschini che da due passi di testa alza incredibilmente la mira. Primo tempo che termina qui. Nella ripresa il Rimini cerca da subito il tris e le incursioni della sala. Non porta l'esito sperato, tocco sotto, in terra di nessuno. Marconi, decideroso di partecipare a festa del gol, cerca la solo personale senza fortuna. Più preciso qualche minuto dopo, quando chiama alla presa a terra, il portiere Germani. Ma è triste nell'aria, Mattia Pellegrino, servito dal compagno, viene strattonato in area di rigore da Antonini. Per il direttore di gara, ben appostato, trattasi di rigore. Dagli 11 metri, Cupioli è chiamato a tiro in due occasioni, in entrambi i casi va a bersaglio. Neppure il tempo di festeggiare, che non va a ferita risponde con una grande incursione di evangelisti che porta all'Eurogoal di quest'ultimo. Meritato l'applauso dei supporti a Sergiallo-Blu, Sesea Neri, per incitare i propri beniamini. Dall'altra parte, anche D'Amato, ammetterà. Siamo andati un po' in difficoltà nel secondo tempo, perché secondo me anche il Nova Feltria è un'ottima squadra. È stata una bella partita, giocata bene da tutte le due parti, si è visto un bel calcio alla fine. Devo fare i complimenti al Nova Feltria, però devo fare altrettanto ai miei giocatori, che ancora un'altra volta hanno dimostrato di saper stare bene in campo e tutto sommato penso che la vittoria è stata meritata. I biancorossi continuano a pressare con Tamagnini che serve Marconi, ma l'arbitro non decreta un rigore che parebbe netto. Il Rimini non ci sta, vorrebbe anche il po' che la squadra di D'Amato, ma Gakovicai, da buona posizione, allarga troppo il piattone. Finale a vincente con una punizione da parte di Nova Feltria, battuta da Grigori, che si stampa sulla traversa della porta difesa dall'attento basilico. Dall'altra parte, Lombardi va vicinissimo al po' che quando il suo tiro si spegne di poco a lato. E dopo questa azione l'arbitro è libero di fischiare la fine del match con il Rimini, che giustamente comanda la classifica, e con il nuovo Feltria che si prende gli applausi del pubblico presente allo stadio Romeo Neri.